oggi abbiamo dato il saluto alle ragazze di serie 2 di basket femminile che inizieranno il campionato abbiamo fatto dalla basilica paladiana un luogo simbolo per il basket vicentino soprattutto per il basket femminile l'augurio è che raggiungano i stessi risultati di quella squadra che era storica per la città di vicenza ma che ha raggiunto grandi risultati sia a livello nazionale che d'europeo oggi è un punto di partenza siamo partiti appunto dalla basilica palladiana e l'augurio e l'impegno è di rivederci al palazzetto per tifare basket vicenza